Ragazzi salve a tutti e ben tornati sul mio canale, oggi parliamo degli Oscar e anticipiamo quello che faremo durante la nottata degli Oscar, ovvero seguire passo passo le premiazioni. Gli Oscar 2018 saranno il 4 marzo e stiamo aspettando con trepidazione le nomination che usciranno appunto a fine gennaio. Quello che mi aspetto, quello che diciamo posso presagire anche dalla vittoria dei Golden Globe di Tre Manifeste e Bing Missouri, che è quello lì sarà il film favorito. Insieme a quello di Chiglielmo del Toro e The Shape of Water, che ancora mi manca, devo assolutamente vedere e sono curioso anche del nuovo film di Guadagnino, Chiamami Col Tuo Nome, che ha ricevuto comunque tre nomination ai Golden Globe ed è un film di un regista italiano. Quindi sono fiero che anche quest'anno un regista italiano abbia ricevuto nomination e candidature per premi di questa importanza e spero che ritroveremo le stesse nomination anche agli Oscar. Spero anche di guadagnare qualche premio per la cinematografia italiana. Per la cinematografia italiana. Quello che voglio dirvi è che seguiremo attentamente la nottata degli Oscar, non so ancora in quale modalità, non so se seguiremo la diretta su YouTube, se la seguiremo registrando dei vari spezzoni, dei vari video che poi monteremo insieme, non lo so. So solamente che uscirà sicuramente il video degli Oscar e della nostra nottata in bianco per seguire attentamente i premi più importanti del cinema. Quindi il video finisce qua. Lasciate un like, un commento. commentate rispetto alle vostre aspettative per gli Oscar 2018. Vi ricordo intanto che l'appuntamento settimanale spero di rispettarlo e che quindi domenica uscirà un nuovo video su un nuovo film che ho visto in questi giorni o che ho visto in passato, non lo so, devo ancora girarlo. Comunque, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e andatevi a recuperare gli ultimi video. Soprattutto il cortometraggio Guardami Rinascere, che è il video fondamentale, diciamo, di questo canale. Video dal quale sono partito a girare tutti gli altri video. Quindi restate sintonizzati, noi ci vediamo alla prossima!